Il Vice Comandante Daniele Lopresti, sta Ormina, si appresta a vivere la stagione turistica post-Covid e ci si sta organizzando anche dal punto di vista della Polizia Locale. Oggi sono arrivate le macchine, quali sono le caratteristiche delle nuove macchine a disposizione della nostra Polizia Locale? Sì, siamo riusciti ieri a ritirare finalmente i due veicoli di servizio, fortemente voluti anche a livello di design dall'amministrazione. Abbiamo voluto dare un tocco di novità rispetto alle precedenti configurazioni. Abbiamo due veicoli che sono dotati di strumenti che permetteranno ai colleghi di lavorare con più serenità perché abbiamo predisposto nella parte posteriore un piano d'appoggio per la compilazione dei verbali, dei vani accessori per il contenimento di tutta la strumentazione necessaria per il levo degli incidenti, piuttosto che. Abbiamo dei dispositivi luminosi implementari, sia anteriori che posteriori, che rendono più visibile il veicolo e ovviamente diventa uno strumento di lavoro più efficiente. Dal punto di vista del personale, come si sia presto a vivere questa stagione turistica? Si parla tanto di possibilità di avere personale a comando. Si spiega quante persone dovrebbero arrivare a Tornino, quanti agenti dovrebbero arrivare a Tornino? Sì, l'ufficio preposto che è l'ufficio personale sta lavorando da diverse settimane con comunicazioni con alcune amministrazioni comunali. Abbiamo la disponibilità di sei posti nel 2021, attualmente stiamo relazionandoci con tre amministrazioni e in totale dovrebbero arrivare cinque agenti. Purtroppo la procedura del comando è una procedura un po' lenta, perché necessita di un primo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza degli agenti, e poi degli atti che devono essere redatti dalle due amministrazioni. Quindi io spero che nel giro di un mese, un mese e mezzo, arrivino queste nuove forze. Vi posso anticipare che due dovrebbero arrivare da Milano e tre dalla regione siciliana.